25 e 26 dicembre insieme al primo gennaio erano giornate con disposizioni diverse e specifiche rispetto al resto del periodo delle feste ma il decreto natale ha superato questa distinzione che quindi non esiste più. È una delle risposte alle domande frequenti le cosiddette FAQ pubblicate sul sito del governo. Ribadito il divieto di spostamento tra regioni diverse fino al 6 gennaio a meno che non sussistano motivi di salute, lavoro o necessità o per tornare alla propria abitazione, residenza o domicilio. Dunque nessuna visita a parenti o amici fuori regione. Sì invece se non si varcano i confini regionali pur che si sia al massimo in due più figli fino a 14 anni di età ed eventuali disabili conviventi. Attenzione tale possibilità viene offerta sia nei 10 giorni festivi e prefestivi cosiddetti giorni rossi sia nei quattro feriali cosiddetti arancioni. Quanto detto finora vale solo nella fascia oraria dalle 5 alle 22. Gli unici a poter varcare il confine regionale saranno gli abitanti dei piccoli comuni, quelli fino a 5.000 abitanti che comunque non potranno allontanarsi più di 30 chilometri. Oltre ad essi potranno varcare i confini regionali, i genitori separati o affidatari per poter raggiungere i figli minorenni. Infine il tema delle seconde case, non raggiungibili quelle fuori regione e in caso di cointestazione a più nuclei familiari, solo uno ci si potrà arrecare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.